Ciao ragazzi, ci siamo in un nuovo video di Broostasso, ci siamo qui per fare un pochino di partite sul goal Iniziamo subito con Edgar per far vedere un altro po' il brawler, come l'ho portato, come l'ho avanzato E comunque come si... le migliori tecniche, magari, se vi piace il nuovo brawler Ragazzi, come vedete ho un po' scalato, non tantissimo però Tipo faccio come un giorno scalo, un giorno no E queste cose mi penalizzeranno tantissimo Perché cioè, un giorno tipo scalo, un giorno manco mi ricordo che esiste il brawl Però, poi magari me lo ricordo e faccio quelle ventine coppe Tipo, oggi ho fatto un bel po' di coppe E credo anche, ora proverò di arrivare a 19.500 in questi giorni Magari un giorno ritornare di nuovo al 19.000 a 20.000 Magari nella prossima stagione, in questa, non so per spender quanto giocherò Ovviamente perché, cioè, se ne giocano tanto, dai vero schiai Posso arrivare anche oggi, se giocano poco Però magari se guadagno, tipo, se perdo tutto, cioè, non perdo neanche una partita Magari, ce la posso fare, dai Perché cioè, quando si perdono le partite è veramente difficile Non direbbe il telecoppe, se ho tutta l'unicoppe Mi ha fatto la prima Comunque il nuovo brawl sicuramente mi sta tanto avvantaggiando Perché ovviamente faccio qualche più facile Poi quando si bloccherò l'uno, vabbè Comunque per sbaglio ho bloccato qualche due casse Ehm, per sbaglio, l'ho aperte Ehm, però ho preso delle gemme Ehm, quindi, tra poco, veramente Sennò c'è un 166 Mi manca veramente poco Ok, raga, commentiamo nel frattempo questa partita Se la siamo completamente scordata Ehm, prendiamo queste gemme Gemmozze Per aiutarci, non so, a fare questo Un pochino ci aiuterà Questa, praticamente questo video sarà la maggior parte Ehm Ehm Ehm, subito, dai Comunque credo che il video di domani sarà finalmente col microfono Sarà, eh, ormai ho capito quasi come funziona E quindi credo che ci sarà Facciamo se devi poter andare al volo, dai Le tre partite Con Poggio E poi credo che dopo 6 poter finire qui il video Ehm, vediamo C'è un Tic e un MZ MZ Allora, qua mi metto dietro Così almeno loro Ehm Allora, ragazzi, faccio ora l'outro Anche se il video durante tanto minuto Scherzo, non lo so, non lo faccio ora Vabbè, l'outro si diceva Vabbè, credo che lo sapete che significa l'outro L'outro Comunque, eh, ancora, ragazzi Voi vi è mai capitato ancora il raffaggiamo che non finì? Cioè, ancora Quel timer là sopra che vedete Ancora non è servito a niente Sam L'ho sempre Cioè, sempre Siamo Abbiamo vinto sempre su più Cioè Non è anche successo ancora una volta Non so perché Abbiamo vinto sempre subito L'oro Sempre subito Comunque, ragazzi Tra un po' Tra qualche settimana Sicuramente Tra due o tre settimane Ci sarà il video del fantacalcio Così vedrete un po' come migliore là Ovviamente così Vi dico un po' che La classifica Non sta cambiando tantissimo Però Diciamo che Non sta cambiando tantissimo Però Comunque Un po' sta cambiando Tipo Ci sono delle posizioni In quanto lo sta guadagnando In quanto lo sta distaccando Qualche altro E tante altre cose E Intanto qui Stanno morando Comunque E tra tipo due o tre settimane Scusate Si aspetterebbe Tanto Ma perché Ve lo vorrei Un motivo Ve lo spiego subito Perché Praticamente Vogliamo Che Finisce pure La prossima partita Vedremo Così Sarà più facile 100% Qua ho toccato Tante cose Perché A me piace Toccare Tantissimo Il telefono E Soprattutto Quando Guardo L'ho toccato Non è che Non ho fatto Non ho fatto Niente Adesso Avete visto Tipo tutti Quelli Pagli Minisce Perché Ho toccato Con tutte Le dice Vabbè Allora Chiudiamo Questa 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 Che I gadget Anche se Sono Scassi Sono Ma Aiutano Però Sicuramente Meglio Averli Che Non Averli Però Ci sono Molti Gadget Come Quello Di Carli Che È Veramente Scassi O Un gadget Veramente Scassi Quello Scassi Quello Di Spike Però Perché Forte Quindi Alla Finale Non serve Tantissimo Un gadget Forte Allora Intanto Qua Stiamo Vincendo Non so Quanto Ok Bravo Bravo Amico Bravo Amico No Non Fate morire Col Bullello Diciamo Così Bullello Aiuto 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 Ok Bravissimi Attenzione Attenzione Ok Raga Cominciamo Poi Con Il Video Abbiamo vinto Un'altra Partita Bellissimo Facciamo Un'altra Partita Però Purtroppo Ci Facciamo Questa Partita Allora Dai Iniziamo Iniziamo Poi C'ho Penny Corvetto Vabbè Usate Raga Ma Mi hanno Praticamente Chiamato Mi ha detto Che Ma Si Dai Dai Mi sembra Che Era Un Già Per Devanto Vabbè Dai Corvetto Un Bi Allora raga il video finisce qui purtroppo Buone le vittorizie di potere, due ti stanno Tanto ormai sulle serie di potere non la faccio più per guadagnare i punti stellari Come ho fatto vedere prima che ho fatto un po' di cassa per sbaglio Ci vediamo al prossimo video, ciao!